Sì, il Via Libera è arrivato tra l'altro in tempi molto rapidi, siamo al secondo mese di deciso provvisorio ma è passato in Consiglio con tempi rapidi, quindi devo anche ringraziare il Consiglio per aver assunto come dire la responsabilità di fare questo passaggio veloce. È una manovra molto importante, sono 8 miliardi per la Sardegna, per aiutare la Sardegna a uscire dalla crisi. Intanto dobbiamo guardare cosa vuol dire il finanziamento più oggi, è una manovra di 8 miliardi. Ci sono alcune allocazioni, alcune scelte che sono state ovviamente discusse dall'opposizione come succede sempre. Dobbiamo capire che hanno riguardato una parte molto molto piccola del bilancio. Molto più importante è parlare del fatto che questa manovra mette a correre 670 milioni di fondi per lo sviluppo e la coesione, 600 milioni di fondi europei, i 700 milioni del mutuo che sono tutti concentrati in una cifra enorme per far arrivare in fretta investimenti, cantieri e lavoro in Sardegna nel momento di crisi. Questo è il punto fondamentale della manovra. Non abbiamo nessun problema a portare tutti questi soldi più in fretta possibile verso l'economia e la società per creare lavoro e per creare benessere. Speriamo di poterlo fare molto velocemente. Avessimo avuto il patto di stabilità che abbiamo combattuto come prima cosa per entrati al governo, oggi avremo questi soldi ma non sapremo come spenderli perché saremmo vincolati da quella regola assurda della quale ci siamo liberati. Tutte le poste che sono in bilancio potranno essere erogate durante l'anno. Questa è un'enorme novità. Ogni cittadino, ogni impresa potrà vedere lo stanziamento e saprà che entro l'anno quelle somme effettivamente arriveranno, ci potrà contare, potrà fare delle previsioni. L'altro punto importante è questo della programmazione unitaria di tutte le risorse e di quelle europee e quindi finalmente inizieremo a spendere le risorse europee. Da subito abbiamo messo in bilancio oltre 500 milioni già nel 2015. Contiamo di spenderli e accelerare la spesa in modo tale da non rimanere alla fine del ciclo di programmazione con tante risorse europee da spendere e semmai rischiare di mandarle di nuovo a Bruxelles. Questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo essere efficienti, dobbiamo fare effettiva integrazione di tutte le nostre risorse. Ovvio c'è una ragione, la ragione che c'è in qualunque manuale di economia di primo anno, in una situazione di crisi, quando i tassi di interesse sono bassi, quando le imprese hanno difficoltà a rilanciare l'economia, un amministratore pubblico si indebita per fare investimenti, per creare prospettive per il futuro, per superare il gap infrastrutturale. È quello che ha fatto gli Stati Uniti, principale economia di mercato, cinque anni fa, sei anni fa, quando è partita la crisi. Ci sono forti iniezioni di liquidità nel sistema e noi lo faremo creando posti di lavoro, riducendo il gap infrastrutturale che danneggia la Sardegna. Questa è una grande e importante operazione per rilanciare la nostra economia.